Quello di oggi sta qua. Sì, questo è. Sì, questo è. Solo il secondo sta qua. Quello di oggi sta qua. Ben fatto, ragazzi. Avremo sushi ghiacciato per colazione. No, no, figliolo. Guarda qua. Vedi il leone? Guarda il leone e agchiaffa il leone. Senti, figliolo. Se puoi crescere e diventare come il tuo papà un giorno, devi imparare a combattere. Papà. Su, su, alla K, ti faccio vedere una cosa, d'accordo? Vedi questa macchia? Io e te siamo uguali. E quando sarai più grande diventerai il leone alfa, come il tuo papà. Fa vedere come combatti. Pronto? No, alla K, non si parla. Ti diverte molto, non è vero? Sei uno strano cucciolo, proprio strano. Te lo dico. Andiamo, bozza, riproviamoci. No, alla K. Basta, smettila ora. Smettila, sacripante. È così avvilente quando non vengono su come vorresti tu. Ma cunna. Non mi starai sfidando di nuovo, vero? Guarda il lato positivo, Zuba. Ma dopo che ti avrò sconfitto e sarò diventato il leone alfa, avrai molto più tempo da passare col tuo patetico figliolo. Prima che ti prenda a calci, fammi capire soltanto una cosa. Perché vorresti diventare il leone alfa? Sono più bello, ho la criniera più forta, sono subdolo e furbo. E voglio che si faccia quello che dico io. Cominceremo la lotta al tre. Uno. Guarda bene, alla K. Adesso papà lo mette al tappeto. Due, tre. Chi è il leone alfa? Sei tu. Non dimenticatelo. E questo alla K era un attacco. Alla K? Vieni fuori dalla riserva. Bravo, così. Vieni, micio micio.